a zero a zero è venuto su, porca miseria, mi sono fermato io, ti sei filmato a zero, a zero come hai fatto? io sì che mi sono fermato, smettila, è semplice ho messo la marcia giusta da fermo, lo spento, ho messo la marcia giusta, cioè a zero, credibile, si è, ascoltami, è sotto qua, dai finisci, c'era mica il vito che deve tagliare una pianta, sì sì, dalla categoria, a respirare, no devi tagliare, no in teoria abbiamo pulito un altro pezzo qua sotto, cosa facciamo, andiamo e torniamo, andiamo e torniamo, non andiamo sul tombino, no!